Scatta il conto alla rovescia a Bruxelles per chiudere l'accordo sul patto per le migrazioni entro la fine dell'anno. Non c'è nulla di scontato, anzi, alla vigilia del trilogo, chiamato a formalizzare una sintesi tra Consiglio ed Europarlamento con la mediazione della Commissione, si prospetta una strada in salita perché ci sono ancora nodi da sciogliere a partire dalla solidarietà obbligatoria e dall'accelerazione delle procedure di identificazione alle frontiere. Questioni chiave per l'Italia con Giorgio Meloni tornata a ribadire l'impegno per adottare soluzioni strutturali e definitive contro i flussi irregolari alimentati dai trafficanti di esseri umani. Una sfida sempre più pressante nella misura in cui i migranti continuano a morire nel Mediterraneo come dopo un ennesimo naufragio a largo della Libia. Nella riunione europea, in programma oggi ci sarà tanto di cui discutere, rispetto al patto presentato dalla Commissione nel 2020, il Consiglio ed il Parlamento hanno proposto delle loro versioni, sui cui due organismi non si sono ancora allineati. Il confronto politico si intreccia poi con quello tecnico-giuridico perché ci sono ben cinque parti legislative dell'accordo da completare. I negoziati dovranno dunque continuare anche a gennaio, se non a febbraio, per finalizzare il testo in un lavoro che persone vicine al negoziato considerano gigantesco.